Questa lucertola può respirare sott'acqua. Ti presentiamo l'anole d'acqua, la lucertola subacquea. L'anole d'acqua, o Anolis aquaticus, fa parte della famiglia dactiluidae, originaria della costa ricca occidentale. Hanno un'abilità unica in quanto possono respirare sott'acqua tuffandosi in fiumi o torrenti. Per evitare i predatori, tecnicamente respirano nuovamente l'ossigeno dai loro polmoni utilizzando una bolla d'aria nasale, presa possibile da un sottile strato d'aria, tra l'acqua e la loro pelle altamente idrofobica, conferendo loro un aspetto argenteo. Respirano espirando l'aria dai polmoni nella sottile sacca d'aria e la tasca nasale si espanderà per formare una bolla. Quindi semplicemente inalano l'aria, riciclandola letteralmente. Possono rimanere sott'acqua fino a 20 minuti, e gli studi suggeriscono che lo fanno per sfuggire ai predatori e attendere che il pericolo si dilegui. Un ottimo esempio di come gli animali possono adattarsi ai loro ambienti.